Eccezio Ragazzi Ragazzi Nel sistema principale Ragazzi nel sistema principale Il primo che mi riesce a scrivere nei commenti Quanti episodi abbiamo fatto della virus saga Nell'arco degli ultimi due anni Vince un premio Però non gli dico quale Scherzo non ho voglia di contarli Quindi per favore fatemelo voi Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio Serie più goliardica e divertente Finalmente mi hanno rotto le scatole Troppi video serie dell'ultimo periodo Sono usciti un sacco di video molto tecnici Mi raccomando recuperate Perché l'algoritmo ci vuole male E ha smesso di spammarli Nonostante le statistiche siano tipo allucinanti Recuperateveli su una figata Soprattutto l'intervista con l'hacker Cioè non è un hacker vero Cioè tipo è l'hacker migliore del mondo No joke Ogni tanto anche il vostro Dano Ha bisogno di rilassarsi e divertirsi A guardare le creazioni tecnologiche Di code, di giochi, applicazioni Che mi inviate al nostro indirizzo Enfirevirus Chiaccelo a gmail.com Siamo in un ambiente protetto e controllato Come vedete questo è il nostro laboratorio Quindi non succederà nulla A meno che non lo so Non decidete di distruggere la macchina virtuale Numero... Ecco anche qua Vi sfido a contare Quante macchine virtuali Sono state mutilate Durante questa serie E quindi siete pronti Fuggiamo e ricordate un bel like Perché il prossimo episodio esce ovviamente A 3000 like È una serie che va alimentata Con la passione E con la vostra voglia Ogni episodio Signori Ares Amigos Ci hai riscritto Però non è Last of You 4 Mi ha inviato un semplice link Vabbè questo lo guardiamo come sempre Alla fine Ares sarà la chiusura Di questo episodio E passiamo a questa email Adoro Orronfire Non so leggere Ci scrive Buongiorno Oggi le presento il mio malware GDI 35.exe Un malware con 20 payload Scritto in Python Volete iniziare subito con il botto? Va bene Iniziamo con il botto Andiamo a tirarlo fuori Subito solo l'exe Che bello Nessuna istruzione Solo divertimento E vediamo L'icona di GTA 6 Allora 35.exe Tasta destra Come amministratore Vuoi consentire a quest'app Con autori sconosciuti Di portare modifiche Al dispositivo Vediamo questo 35.exe Che cosa fa Guarda un po' che non vediamo Dei malware GDI Effettivamente Perfetto Non sta facendo nulla Io nel dubbio Me ne frego E vado avanti Leon ci scrive Ciao Enfire Sono l'idea di condividere Con te un'emozionante novità Sono stato selezionato Cioè tu Non io Come da testa Del nuovo istruzione operativo Windows Basta Windows 12 Ragazzi siete veramente Impazziti Oddio Oddio Le cuffie rega Rega le cuffie Fanno un rumore terribile Ragazzi queste cuffie Costano 500 euro Non vi azzardate Vabbè Noi nel dubbio Continuiamo Proviamo Windows 12 Rega Le mie orecchie Mi danno fastidio Mi state stuprando le orecchie Signori Asme No Non ha smesso Cioè dai Santo cielo Proviamo a chiudersi i terminali Stavo provando Windows 12 Eh dai Santo cielo Non ho bisogno di esplorare così tanto i miei file Io qui sono sotto effetto di qualche S***a In questo momento Non riesco più a comprendere Ciò che è reale E ciò che non lo è La cosa ancora più terrificante È che dalle mie cuffie Ha smesso di uscire Qualsese tipo di rumore Ora io comprendo che Voi vogliate divertirvi Con il mio hardware Però Non va molto bene La situazione in questo momento Io nel dubbio Dato che Mi sento come se fossi Un astronauta Che sta facendo Un'esplorazione nello spazio Vorrei cercare di Chiudere innanzitutto queste finestre No 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 Go Microsoft Proprio No Assistenza Assistenza Per le floor file Task Kill No 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 Ma porca vacca No no Eh santo cielo Oh Dovrei averli chiusi Li ho chiusi Ah no Mi sono chiuso da solo Mi sono killato Oh Microsoft Ti do un'idea Ma non puoi creare tipo un pulsante Del tipo Attacco virus in corso Tipo un panic button Che poi tipo Voi lo potete premere E quando lo premete Tutto si risolve Nel senso che tu Killi tutto Io riavvio il computer Nel dubbio Guarda guarda Ripristiniamo L'istantaneo numero uno E noi ripartiamo subito E siamo pronti Per la vostra prossima applicazione Prossimo Prima che ci rovinassero la festa Eravamo rimasti Al Microsoft Windows 12 Launcher Punto ex Che andiamo subito Ad eseguire Come Administrator Impossibile trovare il file Mi sa che nel tuo Flow del programma C'era qualche problema Si è aperto una pagina Si è chiusa la pagina I file system Sono stati rimossi E modificati correttamente Quindi ho finalmente Installato Windows 12 Direi no? E quindi adesso Cosa devo fare? Cioè siamo Abbiamo installato Windows 12 Ma siamo rimasti sul 10 Questo probabilmente È un messaggio Da parte di Microsoft Che dice Windows 12 Non uscirà mai Prossimo virus Ciao and fire Questo file ti farà giocare E hai già metti dashed gratis Ma non era già gratis Questo coso Va bene Clicca per scaricarmi C'è una freccia Molto lunga Che mi porta Giù 258 mega Wow La mia connessione Dei cricetti Dice che ci vorrà Circa un quarto d'ora Per scaricarlo Passiamo al prossimo Sperando che Durante il download Il tuo file Non venga distrutto Assieme alla macchina virtuale Enfire virus update Salve caro Enfire Sono Pietro Storn È tornato È tornato Pietro Stornandietros Quello che ha fatto Il sito Degli amministratori Dien cose Scrivo per i problemi Che hai ricevuto Con l'utilizzo Il nostro antivirus Sì La tua pagina Non era Non potevo usarla Per accedere al nostro antivirus Ci vuole una chiave Che lei non deve far girare Per nessun motivo Ok promesso Non la faccio vedere A nessuno Ci vede che è una chiave Solo per me Operazione non riuscita Windows Defender Come osi Perché tutte le volte Ti riattivi Ragazzi la sicurezza Microsoft sta diventando Da un lato Molto positiva Dall'altro mi sta rovinando Tutta la virus saga Ma nel frattempo Voglio andare a vedere Il sito La tua sicurezza È interessante Stai cercando un virus Antivirus Che ti protegge dai Ma porca vacca Stai fermo Sei nel posto giusto Non toccare Noi tocchiamo comunque Mi dispiace di averlo toccato Nel dubbio Andiamo avanti Grazie alla nostra esperienza Poco affidabile Sei in pessime mani Noi ti aiuteremo Con il tuo computer In tutti In tutti Stai sto cazzo di carosello Controllandolo In tutti i sensi Non so che scrivere Nel mezzo della camminata Mi trovai in una selva oscura Bravo Mi piace Andiamo nella galleria ragazzi Polleria Cosa Contattami Attenzione ragazzi Non contattarmi Va bene Non ti contatto Hai altre curiosità? Oh mio dio Posso davvero Ragazzi Lo contatto subito Pietros Non tornare mai Indietro Vado subito a provare Il tuo antivirus Vuoi consentire A setup.exe E portare modifiche Al dispositivo Andiamo Sicurezza Di windows Impossibile Aprire i file A causa Delle impostazioni Di sicurezza Di internet Non è possibile Aprire uno più file Che cosa diavolo Hai provato a fare Col mio Guarda che c'è Il mio computer fisso Legato alla rete Perché non è possibile Aprire questi file Immagino Era un problema Chissà Di apertura Ma tu per aprire La guida Devi avere la connessione A internet Sei stato hackerato Questo antivirus Non era un antivirus Contro i virus Che fanno da virus Ma era un antivirus Che faceva da virus Sono moleficos Ok Sto creando un modo Ma in che modo Senti Senti ragazzi Questo antivirus Non sta funzionando Molto bene Giù Giù Oh cazzo Task Kill Vscript Punto exe Ecco Come accesso negato Ma in che senso Perché mi neghi L'accesso Maledizione Terminale di merda Non serve mai a niente Sto eseguendo Il riavvio Vabbè Nel senso Mi aspettavo di peggio Se io questo qua Lo apro con il notepad Che cosa vedo Sì Magari i terminali Che Grazie Sono dei file vuoti Vabbè Io nel dubbio Non mi faccio domande Questi li cancello Ragazzi Computer pulito Ce l'abbiamo fatta Pietro storna indietro E' stato sconfitto Prossimo Il nostro Eos Ci scrive Ciao Enfire Ti invitiamo A provare Una nuovissima versione Del gioco Snake Molto difficile da completare Se riesci a completare Poteremo 1000 euro In Paypal In Paypal Cos'è Una nuova criptovaluta Accetto volentieri La tua sfida Dato che io sono Una persona molto competitiva E che assolutamente Non si arrabbia Mai In questi casi Cos'è sta roba qua Cos'è uno Snake rosso Ciao Enfire Questo virus toccato Da Eos E Mattia il Constructor Che una volta Ha donato 2 euro Sto meme Una volta Ho donato 2 euro Salta cielo Lo dici in ogni commento Sotto ogni video Donnameli sotto A questo video 2 euro E ti giuro Che ti fissa il commento Ragazzi Ho donato 2 euro Domine del canale Che una volta Ho donato 2 euro Infatti Siete meravigliosi Mi raccomando E Mattia Dona 2 euro Che ti fisso il commento Tasto destra Andiamo ad eseguire La tua creazione Che hai fatto con Eos Vuoi consentire A Snake.exe Di apportare Ragazzi Ragazzi Almeno 10 persone Deve uno donare 2 euro Sotto usate il pulsante De uno di Youtube E scrivete Ho donato 2 euro Ho 30 anni Perché mi fanno ridere Ste cazzate Via Failed to execute the script Dual to unendor exception Non ha trovato Il file di gioco Morte3.mp3 Facciamo una cosa Dato che il problema È sicuramente Legato alle dipendenze Se io creo un altro file Morte3 Fixo i vostri errori Dei vostri progetti Ragazzi Vediamo Ragazzi Vi ho fixato Il vostro virus Ma l'ho fixato io Va bene Andiamo Oh Ma è Oh porca Ma rega Ma che bot Perché sta diventando rosso Rega Ma che cosa No 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 Ha creato mille file Sul desktop 27 You are No you are an idiot No you are an idiot No you are an idiot No Non sono un idiota Io sono un idiota Ma se vi ho fixato Vi ho fixato il vostro virus L'ho dovuto fixare io Reddit Perché avete aperto il mio Reddit No E mi avete invertito anche il tasto destro Col siniestro Porca vacca Chiudetevi Vediamo se riesco a chiudere Eccezio Ragazzi Ragazzi Nel sistema principale Ragazzi nel sistema principale Guardate Ragazzi nel sistema principale Che cazzo è sta roba Ok Sono vivo credo La macchina virtuale probabilmente non lo è più Ciao and fire Rip Windows Che simpaticoni Vero Shutdown Spegnimi il pc Ti prego Salvami Sì L'abbiamo fermato Dovrebbe essere salva in teoria Il tuo sistema è stato distrutto Lascia un like E iscriviti Io posso dire solamente una cosa Ho donato due euro Ragazzi sto controllando un attimo il sistema principale Perché c'è qualcosa che non mi torna Mi ha glitchato di continuo fino ad adesso E non capisco perché Non dovete giocare con il mio pc principale Ve l'ho mai detto Che non dovete fare i brutti bambini cattivi Non mi fate perdere il pc per favore Grazie Continuiamo con la virus saga Mi avete quasi fatto perdere 57 anni di vita Grazie Mi raccomando Donate due euro sotto a questo video Con la funzione super grazie videotube Silver Company ci scrive Di Microsoft abbiamo rilasciato a soli mille utenti Un italiano perfetto Che mi fa sicuramente presagire benissimo Un K So che volevano fare qualcosa di molto interessante Per la riduzione della dimensione del programma Però un K è veramente piccolo L'hai scritto con due B Si scrive con una B Open the first Eseguiamolo Installare cmd12 Impossibile trovare il file specificato Beh vedo che ha funzionato insomma Questo invece Sei pronto Sì fixate il problema Sì scansionate il computer Sì Virus attivato Stiamo caricando le tue cadenziali I tuoi file su un server hackerato Vuoi fermarci? Sì Non puoi Accesso negato Che cazzato Vuoi vedere cosa faccio con il tuo terminale? Guarda Disconnessione annullata Divertente ma non può nulla contro il potere dell'ingegnere Francesco Pepparimi ci scrive Gentile signore in file Le abbiamo incaricato un ordine molto importante Deve fermare Clatscape Sta infettando il mondo intero Il famoso team Waffan2 Si impegna al massimo per offrire servizi con continuità Perciò le chiediamo di aderire al contratto di licenza E' troppo lungo Non me lo fa mandare Che senso? Questo virus può essere fatale Aprile sul sedi Cosa stai facendo? Non mi assumo responsabilità sia al computer sia ai componenti No No Abbiamo detto che dobbiamo fermare questo virus Ci hanno chiesto di fermarlo Quindi noi lo fermeremo Clatscape Siamo pronti? Tasto destro Esegui come amministratore Vuoi consentire Clatscape? Esegui per modifichere il dispositivo Let's go Oh mio dio Bellissimo Oh mio dio Oh mio dio Stupendo No Maledetto No Attenzione perché si è riavviato signori Windows si sta riavviando E volete sapere che succede quando Windows si riavvia? Bisogna donare due Che diventerà un nuovo tormento Ve lo sappiate Pulizia Nel dubbio pulisci tutto Windows Mi pulisca tutto quanto Perché sono un po' sporco Mi faccio una doccia ad almeno un mese No scherzo Non è vero Ma era a last view Ragazzi questo è palesemente last view reschinnato Non vi chiederete ma perché hai aperto la tastiera? Perché prende pulsanti? Non funziona niente Sentite La tastiera su schermo è il nostro unico modo Per salvarci Benvenuti nella foresta rega La domanda è Cosa c'è nella foresta? Non teno uscire con dei jumpscare per favore Questo silenzio è molto inquietante Ed è inquietante anche il fatto che sul desktop non ci sia nulla Nulla Oddio È partito Ah vabbè ci metteva a 6 anni a caricarle Era quello il problema Ok Cerchiamo di capire che cosa è successo Posso aprirne tipo uno solo? Uno Vi racconterò una storia C'era una volta Il principe dell'oscurità Da lontano Voleva Camminare Non so più cosa dire Non sono un bravo Che fei Eh Con No Edita con notepad Ok sono dei file vuoti Control A Control A Canc Va bene Mi stai sfidando? Proviamo con gestione attività Ok disabilitato Reg Edit Non ci credo Mi ha disattivato dei pezzi di tastiera Tu mi hai sfidato Adesso te la faccio vedere io Sto provando il tasto destro Tutto tutto eh Il fatto che tu mi hai bloccato la tastiera Non mi fermerà No Pure Sei un maledetto Non mi resta che fare una cosa R I Ma porca puzzola Ah Allora L'impostazione che cerco È il Reimposta il computer Il tuo pc presenta dei problemi Sì Un sacco in questo momento Windows salvami Siete pronti a vedere sparire questa immondizia? Operazioni preliminari in corso Verranno ripristinate Le impostazioni predefinite Sì ripristina tutto E fai vedere a questo povero menticatto Cosa succede A sfidarmi Signore siete pronti a donare due euro Tutti quanti qui sotto ce la farò Io ne sono convinto Questo è il riavvio Che ci consentirà di ripartire In maniera fresca e pulita Senza nessun problema Reimpostazione del computer in corso Quanto è lento sto coso Ragazzi è rimasto a caricare una roba tipo Non lo so da quando ho smesso di registrare quanto è passato Sta ancora continuando a farlo E dopo la bellezza di quasi 30 minuti Avremo finalmente la risposta alla domanda Siamo riusciti a salvare questa macchina virtuale? Oppure è tutto fottuto lo stesso? No scherzavo serve ancora un po' di tempo Signori forse ce l'abbiamo fatta Allora ci sono ancora un po' di robe di immondizia Però ora la tastiera funziona Attenzione il login Sono disponibili alcuni aggiornamenti per il computer Siamo tornati ragazzi Ora vediamo se funziona il terminale Oh ma di nuovo il terminale Poverino hai perso Allora facciamo una cosa divertente No No Ma come? Ma come? Non è possibile che sia tornato Ci penso io adesso CMD Del Asterisco punto asterisco Cancella tutta questa merda di icone Distruggi le terminale Non lo sta facendo Sì che lo sta facendo Devo solo aggiornare Ah Abbiamo goduto Benissimo Cancelliamo queste ultime immondizie Siete pronti signori? Guardate L'ingegnere come vince di nuovo contro un virus Abbiamo ripulito tutto quanto Prossimo ci abbiamo messo un'ora però Ce l'abbiamo fatta Vittoria Ah signori È stato un viaggio eterno Noi ci godiamo L'ultimo virus dell'episodio di oggi Che è quello di Ares Questa serie è complicatissima da registrare Ragazzi ci vuole tantissimo tempo e pazienza Mi raccomando Spolliciatela Perché va avanti solo Grazie a voi E ai vostri Due euro 404 Not found Ares Mi stai trollando? Vediamo Ragazzi hanno bannato Ares su Github Ragazzi è possibile che abbiano bannato Ares da Github No ragazzi l'hanno bannato No È finita No 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 Grazie.